Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo video di Monete di Valore. Bene ragazzi, in questo video vediamo come è fatta e quanto vale la moneta da 500 lire in argento dedicata all'Unità d'Italia. Ma prima di iniziare ricorda di cliccare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. Si tratta di una moneta molto molto bella, classico tondello delle 500 lire della Repubblica Italiana in argento, quindi abbiamo un peso di 11 grammi e un argento 835 per 1000. Quindi il titolo dell'argento non è puro ma 835 per 1000. Una moneta che è stata cognata in occasione del centenario dell'Unità d'Italia e infatti nella faccia principale presenta gli anni della commemorazione 1861 e 1961. 1961 è sia l'anno del centesimo anniversario dell'Unità d'Italia ma anche l'anno di coniezione di questa moneta. Attenzione però, questa moneta anche se riporta sempre l'anno 1961 in realtà è stata cognata anche nel 1962 e nel 1963, ma per tutti e tre gli anni la data riportata è sempre 1961. Su questa faccia, che a me piace particolarmente, troviamo la origa e poi praticamente la nostra bella quadriga con 4 cavalli. Oltre agli anni della commemorazione troviamo il valore nominale L500 e poi la piccola lettera R che rappresenta che la moneta è stata cognata dalla zecca di Roma. Lungo il contorno, faccio un po' fatica ma forse ci riesco a farvelo vedere, sembrerebbe di sì, troviamo la scritta, primo centenario, unità d'Italia e poi gli anni 1861 e 1961. Facciamo rifare il giro, forse ci vede meglio. Ok, primo centenario, unità d'Italia, 1861 e 1961. So che ci sono alcuni pezzi che presentano il contorno liscio, in quanto per causa di un problema tecnico della ghiera questa parte non è stata cognata. In quel caso sì ragazzi, potremmo parlare anche di un ipotetico errore di conium, però non so darvi l'eventuale quotazione delle 500 lire che presentano questa mancanza. Vediamo l'altra faccia della moneta, quindi ruotiamo la nostra moneta dal basso verso l'alto, come tutte le altre monete delle lire e vediamo quello che c'è su questo lato. Nel giro troviamo la scritta Repubblica Italiana, nella parte più bassa troviamo Veroi che è la firma dell'autore di questa moneta, ovvero Guido Veroi, mentre il personaggio rappresentato non è altro che l'Italia torrita seduta su un capitello. Tra le mani poi ha un elmo, mentre in una mano ha un elmo, nell'altra mano invece ha un ramo di olivo. Una moneta coniata in tantissimi esemplari, complessivamente abbiamo 27.120.000 pezzi, quindi un numero molto molto alto, è una moneta molto comune, ha una quotazione di mercato che se è in fior di conio va tra gli 8 e i 9 euro, mentre se non è in fior di conio diciamo che va a peso, e con le quotazioni moderne siamo tra i 6 euro e 15, 6 euro e 50 per ciascun pezzo. Quindi come puoi vedere la differenza tra la moneta che magari è stata maneggiata e la moneta che invece è in fior di conio non è poi tantissima, quindi se vuoi mettere questo pezzo in collezione cerca di prendere possibilmente un pezzo in fior di conio in quanto comunque si riesce ad acquistare facilmente a 8-9 euro e se sei fortunato la riesci a prendere anche a peso come a me è successo più di una volta. Ti mostro nuovamente questa faccia. Credo che per questa moneta non ci sia altro da dire, se hai dubbi, domande scrivilo pure tra i commenti, mi farà piacere leggere anche un semplice ciao o un semplice buongiorno. Non mi resta che ricordarti ancora una volta di cliccare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale Monete di Valore per non perdere i prossimi video. Se hai delle richieste in particolare o vuoi vedere il video di una determinata moneta, una determinata banconota, scrivilo nei commenti, io cercherò di accontentarti il prima possibile. Non mi resta che augurarti una buona giornata e ti ricordo ancora una volta, se ti fa piacere, nella descrizione di questo video c'è anche il mio canale Telegram. Se vuoi puoi seguirmi anche da lì. Un saluto a tutti, ciao!